caricatore doppio per mp5 caricatore maggiorato per tutta la serie mp5 a5 come è fatto questo caricatore ha una clip inamovibile fissa che tiene insieme un doppio caricatore questi finti proiettili si muovono all'indietro lasciando libero un vano di accesso per i pallini da qui verserete tutti i pallini che riterrete opportuno fino ad averlo riempito questo tenendo conto che anche da quest'altra parte avrete lo stesso un vano accesso per riempire la parte laterale sinistra e la destra da qua per cui rimane molto facile riempirlo per caricarlo dovete semplicemente girare questa rotellina posta alla sua base una quantità cospicua di volte che intorno le 30 35 girate interamente in robusta plastica in abbs mentre questa parte qua è in metallo questa che vedete che sto toccando adesso è in metallo che lo rinforza se lo rende saldo abbiamo le viti di fissaggio questa parte qui è quella che va nell'arma che è in metallo 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 che Grazie a tutti